Ok Phil, allora inizia dicendo Ma perché la tromba è lo strumento più bello dell'orchestra? Ma perché la tromba è... Perché la tromba è lo strumento più bello dell'orchestra? E me lo domandi, vuoi preparla tu questa? Visto che tutti i nostri colleghi sono convinti di avere lo strumento con il suono più vicino alla voce umana Siamo qui per dimostrarti con un semplice esperimento Qual è la verità? Sentiamo come suona una tromba di buona qualità Ma che succede se facciamo la prova su uno strumento più economico? Non c'è dubbio, è davvero lo strumento con il suono più vicino alla voce umana Mamme, ogni volta che un bambino sceglie un violino, una chitarra, un flauto, la bicicletta Da qualche parte del mondo una tromba perde la sua voce Io scelgo tromba